Naturalmente sappiamo che cosa pensa il Papa di questo e anche in riferimento alla sovrapposizione tra le rotte migratorie e quelle del traffico di droga, aggiungo anche quelle di armi, la Presidente del Consiglio non ha detto una cosa di per sé sbagliata. Assolutamente. Quello che scriviamo da anni, c'è solo un problema, che i nomi dei responsabili di questo traffico sono noti, li abbiamo pubblicati ormai molti anni fa, li aggiorniamo periodicamente, ci sono inchieste della Corte Penale Internazionale, purtroppo questi nomi sono noti anche alle autorità italiane visto che continuano a foraggiare un sistema che va a vantaggio di queste personalità, penso in particolare al governo libico e non solo al governo libico, c'è anche il tema del cosiddetto piano Mattei, adesso in Niger si apre un fronte perché l'Italia si trova da sola con i Wagner russi in questo momento e anche questa è un'ambiguità che prima o poi andrà risolta. E naturalmente poi arriviamo al Papa. Io credo che il Papa, anche con la sua scelta tra l'altro di andare al prossimo G7 in Puglia a parlare di intelligenza artificiale, abbia voluto di per sé lanciare un messaggio ancora prima di arrivare. La politica però deve fare i conti e deve decidersi, perché non si possono da una parte sfoggiare i rosari ai comizi e poi dall'altra foraggiare in qualche modo la cosiddetta cultura dello scarto, come la chiama il Papa. Va dai migranti, adesso siamo arrivati anche ai disabili. Grazie. Grazie.